ciao a tutti allora oggi sono in francis rachel street dove trovate sulla destra tutti questi piccoli gazebo di souvenir vedete ce ne sono tantissimi mi giro adesso sono bene anche a metà carini se dovete fare dei dei regalini non ho il mio selfie stick oggi e si adesso oggi pomeriggio quindi venite sempre la mattina perché poi verso le 4 così chiudono quindi qua potete trovare adesso faccio così potete trovare di tutto da parei magliette conchiglie tazze pantaloncini osaceneri calamite che vanno tanto cartoline tutto quello che è souvenir ciao